Un vero e proprio tariffario per accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati ambientali detenuti dall'ARPAB non presenti sul sito istituzionale. È previsto da una delibera del 29 marzo 2016 firmata dal nuovo direttore dell'Agenzia Edmondo Iannicelli. Giovanni Perrino, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ne chiede la revoca. A parere di Perrino, il nuovo direttore dell'ARPAB, per mostrare a tutti una sacrosanta inversione nella gestione dell'Agenzia, non ha esitato a mettere nero su bianco le malefatte del suo predecessore. L'approvazione del rendiconto dell'Agenzia 2014, avvenuta solo l'11 marzo 2016, contiene una serie di accuse nei confronti della gestione precedente. Tuttavia, l'impeto del nuovo direttore sembra essersi abbattuto su quelle che dovrebbero essere delle priorità dell'Agenzia, la trasparenza e l'accessibilità dei dati.